Grazie per l'introduzione. Vorrei ringraziare ovviamente l'Istituto Veneto e l'Ecole du Louvre per questo invito questa sera a parlare di Veronese e soprattutto ovviamente Vincent Deluvain e Stefania Tullio Cataldo che sono stati gentilissimi nell'invitarmi e nell'aiutarmi nell'organizzare tutto per questa sera. In realtà mi sono reso conto, preparando questa lezione, che il mio titolo originale su il futuro degli studi di Paolo Veronese era in realtà abbastanza ambizioso e comportava anche una certa qualità di divinazione in realtà perché dove andranno gli studi e cosa succederà agli studi di Veronese non è dato a me decidere né immaginare. E quindi ho pensato fosse più giusto in realtà concludere questo seminario con degli appunti, dei commenti in gran parte alle mostre, a quello che è venuto fuori dalle mostre di Londra e Verona di quest'anno di Veronese. Questo è anche per ricordare agli studenti ma anche al pubblico più in generale che la storia dell'arte non è sempre fatta di fatti o di notizie certe, ma anzi in gran parte di ipotesi, idee che non sempre vengono accertate, a volte lo sono, a volte meno, e che tutti noi storici dell'arte in realtà cominciamo col brancolare nel buio. Abbiamo delle idee, abbiamo delle proposte che spesso e volentieri dobbiamo rivedere e cambiare. Io stesso realizzo che tante delle idee che avevo dieci anni fa su Veronese sono evolute, sono cambiate col tempo. Questioni di attribuzioni, di date, di storie di alcuni quadri, come vedremo, sono cose che sono state riviste negli ultimi dieci anni. E quindi le due mostre, che in realtà sono le più grandi mostre che ci sono state sul pittore negli ultimi decenni, sono un'occasione unica ed irripetibile per rivedere alcune di queste idee, alcune di queste situazioni. Vi ricordo che le grandi mostre di Veronese, in realtà le grandi mostre monografiche, sono in primis quella del 1939, qui a Venezia, a Cagliustinian, una mostra in cui erano inclusi un grande numero di opere da monumenti pubblici, qui veneziani, da chiese, da palazzi. C'erano soffitti dal Palazzo Ducale, Pale d'Altare, tante opere che adesso, nel 2014, sarebbe abbastanza impensabile spostare. In realtà c'erano pochi prestiti internazionali, e gran parte della mostra verteva intorno a opere in Italia. Ci fu poi l'annata del 1988, ovviamente il centenario di Veronese, con una serie di mostre a Washington, a Venezia e a Verona, le mostre forse più scientificamente importanti per quanto riguarda gli studi di Veronese nel XX secolo. Queste mostre riunivano disegni e dipinti, con una serie di prestiti anche internazionali, ma ovviamente per quanto riguardava, soprattutto la mostra di Washington, in gran parte opere trasportabili in America. E quando parliamo di Veronese, ovviamente l'idea del formato di grandi dimensioni preclude il prestito di molte di queste opere, già nell'Europa, ma figuriamoci addirittura in America. Quindi dopo una serie di altre mostre, ci sono state mostre a Parigi, a Venezia di nuovo e a Sarasota negli ultimi anni, ma le due mostre di Londra e Verona in realtà si presentano come monografiche che complementano una con l'altra, e una collaborazione quindi fra la National Gallery e il Museo di Castelvecchio e l'Università di Verona, che hanno portato, spero molti di voi abbiano visto la mostra di Londra e hanno visto già, o andranno a vedere la mostra di Verona, nuovi spunti e nuove idee su Veronese, con dei confronti e delle riunioni di quadri che non sono state fatte in precedenza o fatte in nuovi modi. Vi faccio vedere alcune foto delle mostre sia di Londra che di Verona, giusto per darvi un'idea di alcuni di questi punti forti. Uno era per esempio il confronto a Londra fra la cena di Emmaus, del Louvre, che lasciava la Francia per la prima volta dall'epoca di Luigi XIII, confrontato in questo caso con i due ritratti di Iseppo e Livia da Porto, un confronto che era già stato fatto fra le tre opere a Louvre nella mostra Tiziano-Tintoretto-Veronese, ma non in modo così diretto uno di fianco all'altro, quadri più o meno dello stesso periodo, della prima metà degli anni Cinquanta, con questa riunione della famiglia ancora sconosciuta della cena di Emmaus e i committenti conosciuti dei ritratti dei da Porto, Iseppo e Livia da Tiene, con i figli, messi insieme per la prima volta, raggruppati, ed è stato un confronto abbastanza interessante. Ricordiamo che le due opere dei da Porto, i ritratti, vengono uno dagli uffizi e l'altro da Baltimora, quindi di nuovo prestiti internazionali e riunioni da ambe e due le parti dell'oceano. A Verona, particolarmente emozionante, per me uno dei punti forti della mostra, in realtà è una delle cose più belle da vedere a Verona, è il rientro della cena in casa di Simone, da Torino a Verona, la grande cena, l'unica grande cena dipinta da Paolo, la prima che dipinse, ma anche l'unica fatta per Verona, per il convento dei Santi Nazaro e Celso, che torna, dopo aver lasciato Verona nel Seicento, a Genova, torna, scusate, a Verona per la prima volta dopo essere stata a Genova e a Torino. Le due mostre hanno anche esposto opere di diversi formati, di diverse tipologie, di diverse date. Questa è una delle sale della National Gallery, con una selezione di pale d'altare, vedete la pala Bonaldi da San Zaccaria e poi all'Accademia, e la pala di Santa Caterina, ambedue anche alla mostra a Verona, e la consacrazione di San Nicola della National Gallery, riunita in questo caso con un'altra pala di San Benedetto Po, che veniva invece dall'America, o per esempio, devo dire, un'altra parte veramente emozionante di tutte e due le mostre è stata l'esposizione, sia a Londra che a Verona, delle quattro allegorie dell'amore, le vedete sopra, nell'ottagono della National Gallery, in basso, come sono esposte alla Gran Guardia a Verona. Per cominciare, conviene ricordare che uno dei grandi problemi che abbiamo con Veronese in generale è la mancanza di documenti. Tante delle opere chiave di Veronese, e qui ve ne mostro una per tante, la pala di San Giorgio Embraida, ma anche se pensiamo alla Villa Barbaro di Maser, non sono accompagnate da nessun documento storico che dimostri una data, una committenza, nessun appiglio per quanto riguarda i fatti di come queste opere furono create, quando e per chi. Le ricerche a tappeto per quanto riguarda i documenti di Veronese cominciarono, in realtà sono ancora basate, sul libro chiave di Pietro Cagliari del 1888, che tuttora include la grande maggioranza di documenti veronesiani, che furono poi rivisti ed ampliati da Pignatti e Pedrocco, e in tempi recenti da una serie di studiosi che sono andati ad aggiungere alcuni documenti a questa selezione già ingente, ma che ancora hanno delle enormi lacune. Ed è molto utile nel catalogo di Verona leggere il regesto di Thomas Dallacosta, che fa un po' un punto dei documenti che conosciamo e di cosa sappiamo di Veronese per quanto riguarda le committenze. Ma ancora mancano molti documenti per opere chiave. Alcuni dei documenti addirittura che conosciamo, pubblicati, penso al contratto per la Pala di Montagnana, ad alcuni dei documenti per il Soffitto di San Sebastiano, al contratto per la Cena di Monteberico, dopo essere stati trascritti, gli originali sono addirittura andati a mancare, non si trovano più. Quindi c'è anche una questione di ricercare alcuni dei documenti e rileggere alcuni dei documenti già pubblicati, ma anche cercare più in esteso altre fonti documentarie che ci possano aiutare per quanto riguarda alcune di queste opere. In realtà, come dicevo, una ricerca seria e sistematica non è stata fatta, se non in alcune aree, dall'Ottocento. Alcuni misteri, alcune problematiche a che fare con Veronese, in realtà si risolvono con il tempo. E alla fine la parte più interessante e la più grande scoperta di quest'anno è quella delle due tele, delle due allegorie di Villa San Remigio a Pallanza che si vanno ad unire alle due del Los Angeles County Museum. E qui le vedete, mi scuso per la foto non particolarmente riuscita, a Vicenza nel Museo Palladio. Questo è un mistero che ha circondato queste opere da tanti anni, ormai già da quando le due opere di Los Angeles furono trovate nei primi anni 70, nel 73, in una casa di Newport in America. Si conoscevano le altre due, le due che vedete ai lati, delle due centrali, si conoscevano tramite delle copie, c'era un set di copie a Chartres, un altro in Zimbabwe, una serie di copie di una delle allegorie in collezioni private, un'altra a Castelvecchio, ma non si capiva che fine avessero fatto gli originali. Sono stati scoperti in tempi recenti, nell'ultimo anno, da una studentessa di Milano, da Cristina Moro, e si è andato a ricreare questo gruppo di quattro opere originali di Veronese che sono esposte per la prima volta insieme a Vicenza, dalle ultime settimane. Ma ancora ci sono tanti punti di domanda, e devo dire che per quanti fatti abbiamo e per quanto le opere siano state trovate, ancora c'è tutta una serie di problematiche da risolvere. Ovviamente mancano i documenti, ma non abbiamo assolutamente idea di dove, quale fosse il luogo originale di queste quattro tele, quale fosse la committenza, eppure dovevano essere opere conosciute, il fatto che ne esistano tutte queste copie, soprattutto delle quattro insieme a Chartres, presuppone che potessero essere viste in pubblico da qualche parte, ma non sono, per quanto ne sappiamo, mai descritte da nessuna fonte letteraria, o compaiono tutte quante per la prima volta a fine Ottocento, primi Novecento. Erano in realtà quattro che andavano tutte insieme, e devo dire, a vederle insieme, per quanto sembrerebbe che le quattro siano dipinte come un ciclo, alcuni dubbi sorgono, e le due coppie in realtà hanno delle differenze, il fatto che fossero addirittura separate, e che due poi trovassero la strada della Scozia e dell'America, e le altre due rimanessero in Italia, presumibilmente, e finissero sul Lago Maggiore, ci si domanda perché ci fosse stata questa divisione, e come potessero essere esposte originariamente, e se ce ne fossero state altre, se questa in realtà è semplicemente parte di un ciclo più ampio, o un ciclo compiuto. Probabilmente se ce ne fossero state altre, sarebbero probabilmente anche di altri artisti, quindi sarebbe da ricercare nei pittori che lavoravano con Veronese in queste date negli anni 50, e penso a Zelotti, a Ponchino, a Canera, a Fasolo probabilmente, cercare di capire se ce ne fossero state altre di queste allegorie, cosa il ciclo unitario poteva andare a significare. Le date anche di queste opere sono in parte da discutere. Ammetto di avere seguito una proposta di data nel 2006, quando esposi le due tele di Los Angeles a New York, per la prima volta. Proponevo a quell'epoca una data intorno agli anni 60, a metà degli anni 60, tra il 60 e il 65, che era la data poi proposta anche da Pignatti, quando le opere furono trovate, ma mi ricredo adesso per pensare più giusta la data invece proposta da Rerich, intorno al 1555 più o meno, probabilmente penso la seconda parte degli anni 50 del 500. Trovo molto interessante il confronto con le tele di San Sebastiano, del soffitto di San Sebastiano, che sono state restaurate magnificamente dalla sovrintendenza di Venezia negli ultimi anni, e vi dimostro qui come esempio la tela con il trionfo di Mordecai, in cui vedete i due palafrenieri che tengono il cavallo bianco di Mordecai, molto simili, per quanto mi riguarda, in stile alle due allegorie di Los Angeles, e quindi io credo che una data subito dopo, a ridosso del 1555, sia la più giusta, nonostante nel catalogo di Vicenza vengano datate nella prima metà degli anni 50, quindi ancora comunque c'è una discussione su questioni di date, questioni di cronologia. Tanti dei quadri emblematici di Veronese rimangono un po' in questa nebbia, cronologica e di significato e di committenza originale. Un esempio tra i tanti, la predica del Battista della Galleria Borghese, di nuovo un quadro che non è accompagnato da nessun documento, non sappiamo per chi sia stato dipinto o quando, non sappiamo neanche la funzione originale di un quadro come questo, era una pala d'altare o un quadro da galleria. Ci attacchiamo ad una notizia abbastanza remota e vaga, una lettera di Francesco Barbaro, figlio di Marcantonio Barbaro, che scrive al Cardinal Cipione Borghese nei primi del Secento, augurandosi che gli sia piaciuta l'opera di Veronese, ma non si specifica quale o come o quando, e si è sempre presupposto che quest'opera potesse essere il Battista, che era in effetti in collezione borghese, che quindi potesse essere un dono dei Barbaro al Cardinal Nepote. Ma in realtà nulla collega questa lettera al quadro, se non una serie di coincidenze. Lo stesso problema l'abbiamo per quanto riguarda i due quadri di Veronese che forse ho studiato di più e che sono a me più cari, le due allegorie della Frick Collection di New York. Purtroppo una delle grandi mancanze di tutte e due le mostre di Londra e New York, perché come sapete i quadri comprati dal signor Frick per la collezione non possono lasciare l'edificio storico di New York. Quindi queste sono due grandi tele datate a lungo agli anni Ottanta del Cinquecento, ma che ora sappiamo fossero già dipinte nel 1567. Quindi uno sbalzo di date abbastanza netto. Ma di nuovo i problemi intorno a queste allegorie nonostante gli studi rimangono. In linea di massima i problemi più aperti e più da discutere e che forse rimarranno quelli ancora più da discutere sono quelli appunto della cronologia. La cronologia di Veronese è in gran parte un campo minato. In realtà ci sono pochi punti fissi e anche quando ci sono i punti fissi è difficile costruire intorno sempre, spesso un gruppo di opere coerenti. E per me la predica del Battista rimane un po' uno dei grandi punti di domanda. È un'opera che francamente più la studio e più ci penso e meno riesco a capire dove vada a innestarsi cronologicamente. Nella mostra di Londra e nella mostra di Verona è stata data come intorno al 1575 quindi metà degli anni 70 ma comincio a domandarmi se in realtà questa non possa essere un'opera precedente piuttosto degli anni 60. Uno dei problemi che abbiamo con la cronologia di Veronese è che c'è quest'idea in parte giusta che i colori di Veronese col passare del tempo con la carriera vanno a scurirsi vanno a intenebrirsi a diventare più tintorettiani più tizianeschi. In realtà questo è giusto ma spesso e volentieri questa nostra lettura della cronologica e stilistica è basata anche su questioni dei condizioni dei quadri e quando una vernice si ingiallisce il quadro sembra più scuro del previsto e con le puliture tante sorprese vengono fuori. Questo secondo me è esattamente uno di quei quadri che una volta pulito rivelerebbe dei colori senz'altro più intensi più vivaci e potrebbe essere quindi datato precedentemente. Questo è anche il caso per esempio della conversione di San Paolo dell'Hermitage di solito datata negli anni Ottanta ma senz'altro secondo me è un'opera dei primi anni Cinquanta. Gli stessi problemi rimangono per un gruppo di altre opere anche di più piccolo formato e questo è un muro e in parte una stanza anche il muro a Verona ma era una stanza a Venezia senza la crocifissione del Louvre che a me ancora dà dei punti di domanda. Mentre trovo il confronto fra la resurrezione di Dresda a sinistra e la crocifissione del Louvre a destra abbastanza convincente ancora non riesco a capire come il Battista possa rientrare in questo gruppo di opere tutte datate di solito da me stesso anche intorno al 1575. La resurrezione di Dresda è un'opera particolarmente problematica secondo me perché mentre la parte bassa sembrerebbe rivelare più uno stile precoce addirittura secondo me anche nei tardi anni Cinquanta il Cristo sembrerebbe un'opera degli anni Settanta quindi noi in realtà ci aspettiamo delle date lineari ed un processo cronologico per Veronese che procede in una maniera molto chiara e molto precisa ma questo non è sempre il caso e dobbiamo confrontarci con la possibilità in realtà molto reale che Veronese è un pittore che va un po' avanti e indietro e che cambia in stile a seconda delle opere a seconda dei formati a seconda della committenza e anche quando abbiamo opere documentate a volte le date sono parecchio sorprendenti stesso problema si crea con le due santele riunite qui nella mostra di Londra quella di sinistra alla Pinacoteca Vaticana quella di destra della National Gallery di Londra opere che sono state ambedue variamente datate fra gli anni Cinquanta Sessanta fino addirittura agli anni Ottanta devo dire che a vederle vicino e ripensando alle date tuttora mi restano grandi dubbi per quanto riguarda la cronologia delle due e il rapporto fra le due e lo stesso è vero per il Perseo Andromeda una delle grandi mitologie allegorie di Veronese che rimane un po' di fuori dalle altre ed è stato interessante vedere come tanti storici dell'arte a Londra abbiano addirittura dubitato dell'autografia di quest'opera in realtà questo era già successo in passato ci sono vari studiosi di Veronese che hanno relegato il Perseo Andromeda come opera di bottega sono convintissimo che sia un capolavoro del pittore ma non riesco bene a inquadrarne una data soprattutto per il fatto che è un po' un unicum nella carriera di Veronese con questo stile molto tizianesco e questi colori e figure abbastanza diverse dalla norma penso tuttora che una data intorno a metà degli anni 70 sia la più ragionevole ma sono anche lì aperto a delle altre idee alcune alcuni confronti secondo me nella mostra sia di Londra che di Verona ci fanno ripensare ad alcune date precise e non voglio qui passare tutta la lezione a parlare di date di Veronese ma giusto per darvi alcune idee sono abbastanza convinto che alcune delle date che io stesso ho dato ad alcuni di questi quadri siano da rivedere il Marte Venere della Sabauda non può assolutamente essere per quanto mi riguarda intorno alla metà degli anni 70 o ai primi degli anni 80 ma deve essere molto prima deve essere senz'altro degli anni 60 anche se rimane il problema dei piccoli formati lo stile di Veronese sembra essere molto diverso quando si tratta di piccoli formati rispetto a grandi formati e quindi la cronologia saltando da dimensioni diverse non è sempre lineare come ci si aspetta il San Barnaba di Rouen è senz'altro più tardi degli anni degli tardi anni 60 che gli vengono usualmente assegnati in gran parte anche per renderlo vicino alla pala di San Giorgio sempre per la stessa chiesa di San Giorgio in Braida a Verona questo è assolutamente per quanto mi riguarda un quadro della prima metà degli anni 70 vicino alle telecuccine adesso a Dresda gli anni 70 rimangono per me la decade della carriera di Veronese più difficile da capire perché ci sono in realtà se vediamo anche i documenti dei salti stilistici abbastanza netti vi faccio qui vedere le due adorazioni dei magi fa una dipinta per San Silvestro a Venezia ora la National Gallery di Londra e l'altra Santa Corona a Vicenza che sono state viste una di fronte all'altra a Londra e la tela di Santa Corona adesso in mostra a Verona due opere datate quindi sappiamo che la tela per San Silvestro era dipinta e datata del 73 mentre quella di Santa Corona è del 74 nel 74 era già in situ nella cappella cercare di creare un gruppo di opere coerenti intorno a queste due è abbastanza impossibile e io trovo che la sala degli anni 70 a Londra intorno a queste due opere era per me la più problematica è una sala in cui la sorpresa di allestire i quadri intorno a queste due grandi tele continuava per ogni opera che aggiungevamo alla sala sappiamo che la sala del collegio fu decorata intorno al 1575 ma se vediamo il confronto fra la pala cogollo del 74 e la sala del collegio di un anno dopo ci sono delle grandissime differenze se non avessimo documenti dubito che nessuno metterebbe queste due opere a confronto senz'altro negli anni 73 e 74 Veronese ha un momento incredibilmente bassanesco per qualche motivo e queste due adorazioni dei magi rimangono un po' un unicum in un gruppo di opere abbastanza ristrette la sala del collegio invece è senz'altro più vicina alle allegorie di Londra ed una serie di altri quadri ma comunque il rapporto fra queste opere datate rivela che ci sono sorprese cronologiche senz'altro da vedere e da rivedere nella cronologia di Veronese il quadro più problematico in assoluto delle mostre sia di Londra che di Verona secondo me alla fine è la Giuditta di Genova di Palazzo Rosso un'opera che di nuovo in tanti avendola vista sia a Londra che a Verona hanno dubitato come autografa di Veronese ma che di nuovo posso difendere come opera di Paolo ma secondo me il problema qui è un problema di data e questo secondo me alla fine è il più visibile dei problemi di date nelle due mostre un'opera sempre solitamente datata in linea di massima agli anni 80 quindi un'opera tarda io stesso ero convinto di questa data e ho esposto la tela a Londra nell'ultima sala della mostra ma la tela sia a Londra che adesso a Verona devo dire salta gli occhi come una tela problematica e il confronto qui direttissimo a Verona fra la tela della Giuditta a sinistra e quella del Marte Venere di Edimburgo senz'altro penso una tela dei primi anni 80 a destra rivela che nonostante le apparenti similarità dal punto di vista di fisionomia e drappeggi e figure in realtà rivelano due opere molto diverse e per quanto mi riguarda la Giuditta è da anticipare di molto penso e penso credo abbastanza convincentemente possa essere datata a metà degli anni 50 di nuovo intorno tra i 55 e i 60 quindi di nuovo la problematica delle date e di come connettere queste tele è tuttora secondo me uno dei grandi punti di domanda per gli studi futuri di Veronese e questo senz'altro si potrà risolvere soltanto con diretti confronti come abbiamo fatto tra Londra e Verona ma anche con si spera scoperte di documenti o di maggiori informazioni su alcuni di questi quadri uno dei fattori che viene poco considerato in linea di massima dagli storici dell'arte per quanto riguarda le date e le opere di Veronese è il problema della condizione dei quadri e tante persone con cui scusate ho parlato della giuditta non si rendevano in realtà conto che i problemi conservativi della giuditta sono abbastanza significativi e bisogna sempre considerare e questo lo dico soprattutto per gli studenti ma anche per il pubblico più in generale che la condizione di un quadro è fondamentale nel cercare di capire l'autografia del quadro stesso o la data porto ad esempio la pala bevilacqua alla zise che alcuni dei massimi studiosi di Veronese come per esempio Richard Koch hanno dubitato per anni e anni semplicemente per questioni di conservazione è un quadro mal conservato quindi senz'altro ci sono dei problemi a vederlo come è adesso con i restauri successivi ma che in origine doveva assolutamente essere di Veronese questo è anche vero per soprattutto ho notato negli ultimi anni i ritratti tanti dei ritratti di Veronese non sopravvivono in condizioni eccezionali l'Alessandro Vittoria del Metropolitan per esempio è un quadro che ha sofferto moltissimo l'abbiamo analizzato a New York prima di mandarlo alla mostra di Verona e gran parte dello sfondo è ovviamente interamente abbraso vedete a malapena sulla sinistra quel che resta probabilmente di una scultura la parte bassa di una scultura nello sfondo ma gran parte dello sfondo del volto delle due statue delle mani sono interamente abbrase il tappeto in basso è interamente ridipinto e l'unica parte che si conserva più o meno bene è la giubba nera dello scultore quindi di nuovo decisioni dal punto di vista stilistico e soprattutto cronologico sono difficili da raggiungere per la questione della condizione del quadro due altri esempi sono due ritratti dei primi anni 50 il Francesco Franceschini di Sarasota un quadro datato 1551 un quadro che io stesso avevo dubitato avendolo visto in fotografia varie volte ma che adesso avendo visto dal vero di varie occasioni penso sia autografo di veronese ma in realtà un quadro incredibilmente rovinato così come il collatino con l'alto che possiamo vedere per la prima volta incredibilmente nella mostra di Verona che quindi è un'occasione unica per poter vedere questo quadro che di solito è in un castello in Moravia che non è stato mai visto di base fuori dalla Moravia da chi è stato scoperto negli anni 90 è un quadro che pur non raggiungendo le condizioni drammatiche di quello di Sarasota è un quadro che è stato molto appiattito dalle rintelature ed il volto che secondo me rimane molto vicino come ideale a quello di Franceschini ma anche a quelli dei da Porto è un quadro che va considerato nell'ambito più ampio delle problematiche e delle condizioni i modelli e i bozzetti i disegni rimangono anche un problema aperto e mi rendo conto che le motivazioni per cui alcune di queste opere sono state dipinte rimangono abbastanza da discutere e c'è tutta la situazione dei modelli bozzetti piuttosto che ricordi dalle opere d'arte o disegni quando si tratta di disegni disegni autonomi per quanto mi riguarda io sono abbastanza convinto che la situazione sia in linea di massima lineare ovvero che questi modelli siano semplicemente modelli di presentazione precedenti alle opere sono assolutamente convinto che questo sia il caso del meraviglioso disegno del Louvre e della Pala di Caen la differenza fra i due è netta e quindi o si presuppone due progetti totalmente diversi con lo stesso soggetto che potrebbe anche essere il caso negli stessi anni ma probabilmente non così possibile o che in effetti il disegno del Louvre come già proponeva David Rosand sia il modello fatto in origine per la Pala e poi drasticamente cambiato da Veronese se questo sia una scelta del committente Ercole Gonzaga o del pittore stesso non ci è dato sapere ma immagino e ho proposto già che questa scelta sia dovuta ad un viaggio di Veronese a Mantua vedendo il disegno il disegno è prettamente basato sui modelli di Verona e dell'Italia centrale a cui Veronese guardava nei primi anni 50 Parmigianino Correggio e la pittura italiana di quell'epoca mentre nella Pala finale c'è tantissimo Giulio Romano quindi di base secondo me la differenza fra il disegno e la Pala è che Veronese va a Mantua e vede la Sala dei Giganti e quindi revisiona e cambia del tutto la Pala a seguito di questo viaggio i due modelletti degli Uffizi e dell'Uvr per due delle opere giovanili di Veronese la Pala Bevilacqua e la Zise e la Tela per la Cappella Avanzi più o meno delle stesse date della seconda metà degli anni 40 sono state viste insieme sia a Londra e adesso a Verona e a Verona è ancora più bello vedere il modello di fianco alla Pala purché rovinata e anche qui rimane la problematica di a cosa servissero questi modelli su carta dipinti su carta se fossero modelli piuttosto che ricordi e anche perché soprattutto sembrano sopravvivere quelli della giovinezza di Veronese piuttosto che quelli di altre opere semmai li fece successivamente gli inventari di Casa Cagliari più tardi menzionano tutta una serie un numero di opere a olio su carta e la revisione di questi due modelli come opere di Veronese nonostante ci siano e mi sorprende tante persone che ancora li dubitino è dovuta all'articolo chiave di Dana Gisolfi che li rimise nel contesto originale e li ripresentò molti anni fa ma tuttora la lettura della dottoressa Gisolfi mi sembra la più giusta e io sono abbastanza convinto di nuovo che questi siano modelli per le pale e questo ovviamente visibile nel caso della pala Bevilacqua la Zise non lo potete vedere bene dalla fotografia ma lo vedete bene in mostra a Verona il modello segue soprattutto nella figura di San Giovanni Battista una versione precedente della pala finale vedrete che il braccio sinistro del San Giovanni Battista è spostato era in origine rivolto verso il Santo Vescovo e poi rigirato all'interno mentre regge la croce nel modello è ancora il braccio originale poi cambiato quindi questo dà da pensare che sia un modello effettivamente fatto per i committenti e poi cambiato in corso d'opera come era naturale per in questi casi dal pittore stesso senza passare troppo tempo solo sulle date c'è il problema anche dei soggetti e di alcune situazioni basilari del significato di alcune di queste opere che è particolarmente vero per quanto riguarda le allegorie di Veronese ma non solo per darvi degli esempi e questi per me rimangono ancora grandissimi punti di domanda le cosiddette allegorie della navigazione abbiamo visto queste e le due di Los Angeles ma anche quelle di Pallanza non abbiamo assolutamente idea di cosa rappresentino a parte il fatto che siano figure presumibilmente antiche presumibilmente orientali che tengono degli strumenti scientifici questa è una con un astrolabio piano vi faccio vedere un esempio dello strumento scientifico ecco l'altra con una balestriglia che era un altro strumento scientifico dell'epoca ma se queste abbiano a che fare con la misurazione la navigazione questioni di geometria astrologia astronomia ancora è del tutto da capire senz'altro aiuterebbe sapere per dove sono state dipinte e cosa significassero insieme come gruppo uno dei commenti più comuni ai visiatori per i visiatori della mostra di Vicenza è l'apparente differenza di significato fra le tre figure di uomini scientifici con strumenti scientifici e l'allegoria femminile della scultura uno degli altri grandi problemi che rimane e che senz'altro non sarà risolto finché i documenti non saranno trovati è l'identificazione della famiglia nella cena di Emmaus una famiglia che senz'altro deve essere una famiglia prominente dell'Italia settentrionale io propongo una famiglia di terraferma per quanto mi riguarda l'idea di rappresentare figure femminili di una famiglia la moglie le bambine così in una maniera così diretta in un palazzo veneziano a metà degli anni cinquanta rimane abbastanza problematica una cosa che per me sembra più ragionevole per un palazzo veronese o vicentino o comunque della terraferma è in effetti il primo grande telero in cui le donne sono rappresentate così con così diretta centralità di veronese o a Venezia sono le telecucina fatte per una famiglia bergamasca a Venezia ma se pensiamo al confronto con per esempio la famiglia Vendramindi di Tiziano sono solo i membri maschili i personaggi maschili della famiglia lo stesso vale per per esempio il significato del Marte Venere del Met e in realtà per tutta una serie di allegorie incluse quelle della Frick fatte da veronese negli anni 60 e 70 non abbiamo programmi iconografici per alcuni di questi quadri e anche quando il significato si va a leggere in base a cosa è dipinto sul quadro si aggiungono poi delle problematiche in questo caso il quadro è stato giustamente letto come una unione di Marte e Venere con il cupido che lega le gambe insieme di Marte e Venere ma ahimè le radiografie del quadro rivelano che all'inizio il cupido non c'era proprio e non c'era questa idea dell'unione delle due gambe che è l'idea alla fine centrale di tutto il quadro quindi in base a cosa questo quadro ha cambiato il significato ha cambiato l'iconografia l'iconografia doveva essere in realtà ben precisa e se non era pianificata dall'inizio perché c'è stato questo cambiamento quindi anche lì un grave punto un importante punto di domanda che rimane in altri casi ci sono degli indizi che ci portano verso una soluzione ad alcuni problemi ma che non riusciamo ad arrivare fino in fondo la Sacra Famiglia di Vicenza per esempio della Pinacoteca Civica una Madonna e un bambino in realtà piuttosto che una Sacra Famiglia include due Santi un santo maschile una santa femminile il santo maschile è chiaramente un San Pietro quella femminile di più difficile identificazione immagino che questi siano i committenti dell'opera un personaggio chiamato Pietro e la moglie con un nome ancora da stabilire ma non si è chiari se questa sia una Santa Caterina una Santa Colomba o addirittura un'altra Santa ancora quindi capendo i nomi dei due Santi si potrebbe capire anche quale committente a Vicenza probabilmente avesse in origine commissionato questo da Veronese l'identità dei ritratti indipendenti soprattutto rimane tuttora un altro dei grandi punti di domanda delle opere di Veronese quasi tutti i ritratti di Veronese non hanno un'identità qui ve ne faccio vedere due per esempio della mostra di Londra la Bella Nani del Louvre e l'Uomo del Ghetti è curioso vedere che tutti questi ritratti nell'Ottocento e poi nel Novecento sono sempre quelli maschili prima o poi definiti come autoritratti o se no definiti come membri della famiglia Barbaro i Barbaro sembrano essere stati rappresentati da Veronese a seconda degli studiosi degli ultimi duecento anni di continuo quindi l'Uomo maschile del Ghetti è stato identificato come Marco Antonio Barbaro anche se la prima menzione del quadro è in casa Moscardo a Verona quindi si presuppone piuttosto una committenza Veronese e la Bella Nani tuttora viene identificata con Giustiniana Giustinian la moglie di Marco Antonio Barbaro a Villa Barbara Maser a parte il fatto che le due donne sono bionde e hanno dei vestiti blu per quanto mi riguarda l'attribuzione dell'identificazione con Giustiniana rimane tutta da stabilire e così rimane il caso per altri due ritratti in mostra anche sia a Verona che a Londra il ritratto di Harwood nel qual caso sappiamo che era un membro della famiglia Soranzo ma rimane da stabilire quale ramo della famiglia Soranzo e quale membro esattamente o il bellissimo ritratto di Palazzo Colonna che anche rimane tuttora senza un'identificazione valida nonostante Ridolfi menzioni una lista di nomi di persone ritratte da Veronese ma non siamo mai riusciti a connettere questi nomi delle persone effigiate con i ritratti veri e propri i ritratti compaiono anche spesso e volentieri e io penso sempre di più di continuo nei grandi teleri dipinti per i palazzi veneziani di terraferma ed in questo caso la grande discussione questa è stata una delle discussioni abbastanza divertenti con Nicholas Penny mentre preparavamo la mostra di Londra sull'identità dell'uomo al centro della tela al di sopra delle donne della famiglia di Dario quando si vanno a leggere le fonti antiche ovviamente Dario non è presente nel momento in cui la famiglia di Dario viene presentata ad Alessandro e tante fonti storiche storico-artistiche descrivono questa figura nel quadro erroneamente come Dario l'unica figura presente nella storia nella letteratura è un eunuco e questo chiaramente non è un eunuco e rimane quindi il problema di chi sia questa figura maschile mentre Nicholas Penny crede che sia una figura casuale un personaggio della corte della famiglia di Dario io sono abbastanza convinto che possa essere il committente Francesco Pisani e che possa essere un ritratto di lui da capire se la moglie sia anche raffigurata nella figura della regina la moglie di Dario o meno ma sembrerebbe poter essere anche quella un ritratto la famiglia cucina in realtà abbiamo invece tutta una serie di informazioni per cui sappiamo esattamente quali fossero i membri tre fratelli e la moglie di uno dei tre con i rispettivi figli ma ci portano a uno degli studi che secondo me andrebbe esplorato per quanto riguarda Veronese che è il suo rapporto con committenti famiglie cittadine e aristocratiche di terraferma coinvolte nel mercato dei tessuti quando si va a vedere la lista di nomi e cosa queste famiglie facevano i Cuccina i Cogollo i Bonaldi i Tiene erano tutti coinvolti col mercato della seta e dei tessili a Venezia e nella terra nel Veneto come Veronese rientri in questo circolo di conoscenze è da stabilire ma senz'altro alcune connessioni sia la famiglia Cuccina che la famiglia Petrobelli vengono da Bergamo e il fatto che le committenze siano intorno agli stessi anni dà da pensare che ci sia un circolo di conoscenze e di amicizie che sviluppa questo tipo di committenza ma ancora questo è in realtà tutto da vedere e il fatto che il fratello di Veronese anche se non sappiamo bene quando muoia fosse un re Camador e lavorasse nel mondo nell'industria delle stoffe è un'altra cosa da esplorare secondo me ma anche quando andiamo a vedere i committenti chiave e pensiamo a Daniele e Marco Antonio Barbaro tantissimo rimane da fare ed una delle cose che mi propongo nel futuro di fare è di ritornare su queste figure perché un po' alla fine sono le figure che mancano nelle nostre mostre di Londra e di Verona in parte per il fatto che non siamo riusciti purtroppo ad avere in prestito il quadro di Amsterdam del Rijksmuseum ma anche perché ovviamente senza gli affreschi di Maser è difficile far venire fuori le figure di Daniele e Marco Antonio che erano senz'altro due delle figure chiave nella vita nell'opera di Veronese ma non le uniche Maser rimane uno dei punti forti del capolavoro per quanto riguarda gli affreschi di Veronese ma nonostante la quantità di studi in realtà la nostra conoscenza su Maser è pressoché minima l'iconografia di Maser è tutta da rivedere in realtà è tutta da capire e purtroppo è talmente difficile come concetto come concezione dietro dietro l'idea che non so bene come e quando si riuscirà a risolvere ma anche addirittura di nuovo questione di documenti non abbiamo un singolo disegno per Maser è l'unico che è stato più o meno collegato a Maser secondo me e secondo altri studiosi ha poco se non nulla a che vedere con Maser ma ricordiamo inoltre che nonostante la nostra idea delle ville di Veronese degli affreschi di Veronese sia di base basata su Maser non era l'unica abbiamo la Soranza e abbiamo Palazzo Trevisano a Murano dove gli affreschi sopravvivono strappati in condizioni più o meno precarie ma abbiamo documenti che dimostrano che Veronese affrescò intere altre ville la villa della famiglia Giunti a villa di Magnadole la villa di Girolamo Grimani a Doriago con cicli che erano altrettanto importanti di Maser senza contare tutte le varie facciate dei palazzi veneziani sul Canal Grande e su altri canali che ovviamente già erano in condizioni precarie all'epoca di Ridolfi che le descrive e anche per questo esistono pochi o nessun disegno e abbiamo un'idea molto vaga di come questi altri cicli di affreschi si andassero a rapportare a Maser in un modo o in un altro e ovviamente la domanda di chi fossero i programmi a Maser e nella sala del Consiglio dei Dieci sappiamo che erano di Daniele e Barbaro ma da dove venissero i programmi o le idee per l'iconografia della Soranza e di altre ville è ancora da capire la destinazione di alcune di queste opere ci aiuta anche a cercare di capire come venissero usate e come fossero state concepite le due Sant'Elene per esempio apparentemente quadri simili ma in realtà molto diversi in formato e forse anche in destinazione originale non sappiamo se la Sant'Elena dei Vaticani fosse una piccola pala d'altare o un quadro da galleria mentre quella di Londra Nicola Spegna ha proposto e devo dire una proposta abbastanza interessante che potesse essere un'anta di un organo che andasse visto che è da vedere senz'altro di sotto in su e che potesse essere accoppiata ad un'anta d'organo con un costantino è una possibilità per una chiesa francescana per una chiesa di Santa Croce non sappiamo ma senza altro un'iconografia strana è anche da capire il perché in questo caso l'unico per quanto io creda in cui Veronese si rifà dal punto di vista di composizione ad un'opera di un altro artista questa è basata direttamente come molti voi sanno su una stampa attribuita o del circolo di Marcantonio Raimondi da un disegno in teoria di Raffaello per quanto ne sappia è l'unico caso in cui Veronese copia esattamente un'opera come quella una richiesta di nuovo di un committente non c'è dato sapere per ora stesso caso per la pala cioè la pala la tela di Sarasota della fuga in Egitto che sembrerebbe a vedersi una pala in quanto ha formato ma anche questa forse un quadro da galleria e da pensare anche il soggetto pale con la fuga in Egitto in realtà non sono particolarmente comuni in questo periodo o anche successivamente quindi potrebbe in realtà trattarsi semplicemente di un quadro da galleria la tela con i simboli dei quattro evangelisti ex continui Bonacossi documentata per la prima volta nel Settecento qui dietro l'angolo a Palazzo Pisani a Santo Stefano nella galleria del palazzo forse senz'altro era un soffitto per quanto riguarda la vista di sotto in su ma forse il soffitto di una piccola cappella o di un oratorio l'idea che tutti e quattro gli evangelisti fossero inclusi insieme da da pensare che fosse un soffitto un centro di un soffitto da solo piuttosto che un soffitto più ampio in cui si vanno a introdurre i simboli dei quattro evangelisti o tutte le rappresentazioni degli evangelisti come nella Sacrestia di San Sebastiano alla fine il dilemma più grande per quanto riguarda destinazione originale e significato sono le allegorie dell'amore della National Gallery nonostante tutti siamo ormai convinti che queste tele significano abbiano a che fare con diverse letture delle storie d'amore fra un uomo e una donna e che probabilmente fossero commissionate per quanto per qualcosa che riguardava un matrimonio o la vita di coppia di nobili veneziani o italiani non sappiamo assolutamente dove queste tele fossero prima del 1648 quando vengono menzionate per la prima volta le date vengono spesso sbagliate i quadri non sono menzionati nell'inventario post mortem di Rodolfo II del 1621 il primo inventario in cui compaiono che di solito è dato come inventario post mortem dell'imperatore Ferdinando in realtà non è un inventario post mortem di Ferdinando ma è l'inventario dei quadri spostati dalle truppe svedesi da Praga a Stoccolma nel 48 quindi non si sa assolutamente dove queste quattro tele fossero prima nel 48 se non che Van Dyck ne disegna due presumibilmente negli anni 20 del 600 durante il suo viaggio in Italia nel suo tacquino italiano quindi Van Dyck le vede da qualche parte in Italia dove Venezia o terraferma non sappiamo lo stesso è il caso delle allegorie della Frick che invece compaiono nell'inventario del 1621 post mortem di Rodolfo ma che probabilmente già erano nelle collezioni imperiali pre Rodolfo quindi l'idea della committenza rudolfina è un'idea che è cascata con il documento che le descrive nei dettagli nel 1567 quindi prima ancora che Rodolfo diventi imperatore quando Massimiliano è sul trono un documento del mercante Jacopo Strada che le offre come parte di un gruppo più ampio di opere sia all'arciduca di Baviera che all'imperatore sembrerebbe che siano andate all'imperatore dato che sono menzionate lì nel 1621 anche su queste tele devo ammettere di aver leggermente cambiato idea proponevo nel 2006 che queste potessero essere state dipinte in una specie di partnership tra Jacopo Strada e Veronese per un mercato al nord delle Alpi quello che mi è sempre sembrato strano di queste opere è che se sono già in vendita nel 67 sembrerebbero stilisticamente essere intorno al 65 perché sono commissionate da qualcuno e vendute un paio d'anni dopo quindi proponevo questa idea del mercato aperto quindi di tele non commissionate ma dipinte da Veronese su suggerimento forse di strada per una committenza nordica mi sono in realtà ricreduto su questo e penso che una committenza originale dovessero avercela committenti muoiono vanno in bancarotta ci sono sempre motivi per cui anche dopo due anni magari si riescono a vendere si devono vendere delle tele per qualche motivo e di nuovo più passa il tempo più sono convinto che l'uomo che sceglie fra vizio e virtù nell'allegoria di sinistra sia un ritratto questo era stato detto tante volte nel passato era stato dato di nuovo come un ritratto di Veronese o ritratto di qualcun altro non penso sia Veronese stesso ma penso sia uno dei committenti senz'altro sembra vedersi un ritratto e quando si confronta con un'opera simile il bambino che sceglie fra vizio e virtù del prado che è descritto da Ridolfi come un bambino di casa Soranzo che decide fra vizio e la virtù quindi senz'altro c'era un prototipo per un ritratto di un individuo preciso nelle vesti di Ercole alla fine nella situazione di scelta tra vizio e virtù ci sono poi delle problematiche più ampie con cui vorrei finire e sono un po' delle problematiche a caso ma rimane il grande problema del viaggio a Roma Veronese va a Roma o non va a Roma sappiamo da Ridolfi che è l'unica fonte che ci parla di questo viaggio di Roma che lui sarebbe andato con Girolamo Grimani come ambasciatore a Roma in realtà nessuno si è mai posto il problema o ha mai esplorato questo fino in fondo ma sappiamo che Girolamo Grimani va a Roma tre volte come ambasciatore tutte e tre le ambasciate sono molto brevi nel 1555 nel 65 scusate nel 60 e nel 66 quindi a distanza di più o meno cinque anni una dall'altra il primo viaggio a Roma di Girolamo Grimani nel 55 con Matteo D'Andolo Francesco Contarini e Carlo Morosini ed è per l'elezione di Marcello II il Papa il Papa muore pochi giorni dopo l'elezione e l'ambasciata viene confermata il 30 di maggio con l'elezione di un Papa successivo Paolo IV e quindi nella primavera estate del 55 Grimani va a Roma il secondo viaggio invece è nell'aprile del 60 con Marco Michiel Girolamo Zane Bernardo Navaggero e Nicolò Daponte per l'elezione in questo caso di più o quarto e l'ultimo dei tre viaggi nel 66 con Girolamo Zane e Marino Cavalli per l'elezione di più o quinto confrontando queste tre date con le date conosciute documenti conosciuti di Veronese viene fuori che in qualsiasi di queste tre date Veronese sia andato a Roma doveva essere lì per un periodo molto breve nel 55 il 3 di giugno Veronese è documentato firma il documento il contratto per la trasfigurazione montagnana e il primo dicembre a fine anno firma il contratto per il soffitto di San Sebastiano quindi se è a Roma è a Roma in quelle date o prima di giugno o fra il giugno e dicembre lo stesso è il caso del 60 in cui il primo aprile quindi al ridosso dell'ambasciata è documentato a Venezia nel 66 varie date lo legano a Venezia o alla terraferma è documentato a gennaio a Venezia e nell'aprile di quell'anno del 66 sposa Elena Badile a Verona quindi di certo non è a Roma quindi cosa Veronese abbia visto a Roma se ci fosse andato è ancora da capire io sono abbastanza dell'idea che se ci è andato ci è andato nel 55 quindi al ridò subito prima del soffitto del Consiglio dei Dieci e del del soffitto di San Sebastiano e queste figure così monumentali che qui vedete in uno dei soffitti del Consiglio dei Dieci e in un dettaglio di uno di quelle di San Sebastiano sembrerebbero dimostrare una conoscenza della scultura romana della scultura monumentale della pittura di Michelangelo però tutto questo senz'altro era anche visibile a Venezia a Verona tramite stampe dipinti disegni calchi quindi è un problema che secondo me ancora rimane da vedere e forse lo studio delle carte di queste ambasciate ci possono rivelare qualcosa ma non so se nessuno abbia mai approfondito questo fino in fondo c'è poi la situazione dei quadri che mancano e abbiamo visto che una delle scoperte di quest'anno è stata appunto quella delle due allegorie di Pallanza senz'altro quadri di Veronese esistono ancora da scoprire e il fatto che queste due tele che io ho cercato per dieci anni e cominciavo a convincermi che potessero essere distrutte esistano ci dà la confidenza che ne esistano altre i frammenti della Soranza qui ne vedete due a confronto la giustizia e la temperanza la temperanza in mostra a Verona la giustizia sempre a Castelfranco con problematiche anche qui di attribuzione soprattutto per la divisione di lavoro fra Veronese Zelotti e Canera io sono abbastanza dell'idea che la lettura in questo lato di Dana Gisolfi sia ancora corretta e che quindi siano chiaramente da attribuire a tre pittori diversi rimane valida per quanto mi riguarda ma di nuovo le condizioni dei quadri sono parte del problema questi sono affreschi strappati nell'Ottocento ma ricordiamo che quando furono strappati 108 pezzi di questa villa furono strappati e finirono tutti in Inghilterra nessuno di questi frammenti è in Inghilterra quindi se in qualche soffitta di casa inglese ci siano ancora i frammenti di questi affreschi credo abbastanza possibile altri quadri che mancano sono per esempio la moglie del signor Soranzo qui qui visto in Inghilterra le descrizioni la descrizione di Ridolfi abbastanza chiara di questo quadro dice che erano Soranzo e la moglie anche lei seduta e figura intera un quadro che per quanto ne sappiamo non sopravvive l'altro grande problema affrontato in tempi recenti da Thomas alla costa ma ancora da vedere da discutere da capire meglio e secondo me qui abbiamo veramente affrontato soltanto la punta dell'iceberg è il problema della bottega la funzionalità il modo in cui la bottega funzionava so che Thomas vi ha parlato agli studenti già della funzione della bottega di come lui immagina potesse funzionare negli anni 50 60 70 ma ancora rimangono delle problematiche vi mostro qui la grande cena in casa di Levi pre-restauro purtroppo è stata restaurata magnificamente dalla sovrintendenza a Verona ed è in mostra quali erano i contributi effettivi dei figli di Carletto di Gabriele e degli altri membri della bottega sappiamo che nonostante molte delle opere di bottega siano assegnate abbastanza facilmente sia a Carletto che a Gabriele in realtà loro non potevano essere membri attivi della bottega prima degli anni 80 quando avevano un'età in cui potevano in realtà dipingere cioè il problema della collaborazione più che bottega degli inizi anni degli anni 50 e 40 vale la pena ricordare che nella sala del Consiglio dei Dieci Veronese collabora con Zelotti e Ponchino senz'altro Veronese è il migliore dei tre artisti Zelotti è un artista valido ma non all'altezza di Veronese Ponchino è il peggiore dei tre artisti ma il contratto è dato a Ponchino e Veronese Zelotti sono i collaboratori di Ponchino quindi noi abbiamo questa idea sempre che il grande artista è quello che poi ha i collaboratori ma Veronese nasce e cresce all'ombra di altri artisti non della sua altezza ma senz'altro collaborava con loro è chiaro anche che la committenza dei Gonzaga per le quattro tele del Duomo di Mantua non fosse necessariamente a Veronese ma Veronese era anzi il più giovane degli artisti con Farinati Brusa Sorsi e gli altri di questa enorme committenza per una serie di pale per il Duomo di Mantua la figura che secondo me rimane del tutto da vedere e che queste due mostre mi hanno lasciato come grande punto di domanda e la persona su cui veramente degli studi dovrebbero essere focalizzati per bene è la figura di Benedetto Benedetto lavora con Veronese dagli anni 50 è documentato già a San Sebastiano fino alla morte e oltre è di dieci anni più piccolo ma già negli anni 50 lavora con Paolo e continua a lavorare con i figli di Paolo per altri dieci anni fino alla sua morte nel 98 cosa dipinge Benedetto come dipinge Benedetto come disegna Benedetto persone come studiosi come Thomas della Costa e altri hanno cominciato ad affrontare il soggetto ma va senz'altro visto fine in fondo per finire la domanda che mi faccio e questa non è una domanda per gli studi ma una domanda che secondo me vale la pena porgersi e che per me è molto evidente nell'ultime sale della Mossa di Verona e nell'ultima sala di Londra è il fatto che Veronese muore a 60 anni muore relativamente giovane cosa sarebbe successo se Veronese fosse vissuto altri 20 anni è una bella domanda Veronese muore nell'88 quando tutta una serie di pittori che noi consideriamo barocchi o di 600 sono già attivi Veronese conosce Carracci Carracci piuttosto conosce Veronese e scrive di Veronese questo è un confronto fra la venere adone di Carracci e la venere adone di Veronese fatto e che si fa regolarmente al Prado tutte e due le opere sono al Prado ed è stata fatta una mostra anni fa in cui sono state messe a confronto senz'altro Carracci guarda molto a Veronese la pittura veneziana ma c'è da domandarsi cosa avrebbe fatto Veronese conoscendo questi artisti e come questi artisti si svilupparono se Veronese fosse vissuto altri 20 anni sarebbe morto nel 1608 quindi cosa sarebbe successo la Lucrezia per me è un quadro proto-barocco cioè questo è un confronto con un Pietro da Cortona di Londra la Santa Cecilia ma di nuovo senz'altro Pietro da Cortona guarda indietro a Veronese però nella sua sensibilità la Lucrezia è molto diversa dalle opere degli anni 50 60 70 di Veronese e per finire in un modo anche un po' grandioso l'idea che il San Pantalon è dipinto quando Caravaggio ha 15 16 anni cioè Caravaggio è un ragazzo quando Veronese muore tanti dei rapporti fra questa tela questa pala per San Pantalon così contro riformata così avanti rispetto ai tempi è un confronto che con la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio dipinta nei primi anni del Secento a Roma va fatto Caravaggio probabilmente va a Venezia vede le opere di Veronese ma senz'altro un'opera come San Pantalon poteva essere una grande opera di ispirazione per Veronese Veronese comincia negli anni Ottanta questo cambiamento con la controriforma con una serie di opere molto diverse da quelle della sua giovinezza come dicevo rimane da domandarci cosa sarebbe successo se fosse vissuto altri vent'anni grazie